Ciao, sono Gina e vi condurrò alla scoperta del nostro pane. Siamo attivi tutti i giorni, artigiani di lunghi voo del 1956. Il film sen ha lievitato 13 ore nel climato, adesso è pronto per la formatura. Mmm, che profondino! È buonissimo! Sapete che schiena, in merito dei gradi biologici e del nostro Gino. Vi presento Gino, il mio rito madre. Ha bisogno di rinfrescarsi tre volte al giorno. Vi ho fatto venire fame? Venite ad assaggiare il nostro pane.